Tra altre cose è stato bello perché io stamane ho realizzato che gioco domani Giuro Perché nella mia testa ero convinto Che abbiamo ancora un po' di tempo E ho realizzato pure che io stasera ti devo dare le liste Eh certo Ecco Poi ci pensiamo alle liste Aspettiamo anche che arrivi Sattors Eccolo lì è arrivato Poi te la dà Sattors Sai perché? E non sto scherzando Posso essere onesto e tu credo che mi crederai Io non ho capito che devo portare Io non l'ho capito Non lo capisco Sattors Io non ho capito che devo portare Però oggi ti ho visto che t'allenavi Non mentire Vabbè dai un po' Un pochetto mi sono allenato Ma insomma col coach Col coach Col coach Sattors Allora Guarda Claudio io non gioco tanto con Sattors in questo momento Sattors ha giocato fino alle 8 di mattina E ha detto che sono calati drasticamente Il meta è cambiato E in realtà è positivo tutto ciò Tutto ciò è estremamente positivo Però vediamo insomma Cioè nel senso Mi ricco a mamma Alla fine in ambito torneistico non è così importante Cioè In realtà è importante Ma ti assicuro Che c'è una versione di Agro Demon Hunter Still Veiable E io ce l'ho E io ce l'ho Ha delle carte particolari Non ve la faccio vedere Ovviamente Perché non ve la posso vedere Se si vi mostro la lista Eh però C'è una lista diciamo Di Agro Demon Hunter Ancora viabile L'arma si toglie Ovviamente Polket non mi ricordo Sattors si toglieva Però non lo dire Perché non devo dirla questa cosa Cioè stai zitto zitto Oggi ho guardato un po' Di streamer in generale No? Che giocavano Vedevo che purtroppo In Night Legend C'è tantissimo TK Demon Hunter Ancora Otti K Demon Hunter Ovviamente Ovviamente Adesso è il mazzo Che funziona Sai qual è ovviamente Però vi ragioni Il mazzo che è salito Cioè se tu mi abbatti Fondamentalmente Lander Hunter Mi abbatti Agro Demon Hunter Il Rogue Tendenzialmente Va sopra Che che counter Rogue O come anche chi è Che ha un buon matchup Conto Rogue Chi è un buon matchup Conto Rogue In realtà nessuno Però Una buona partita Conto Rogue Puoi farla Con Evald Schamano Sì Chi sforma Borda Velocemente Quindi Tendenzialmente Regà Il discorso è questo Intorno è ovviamente Cambia tutto Tutto Cambia tutto Prete Si Prete Regà Poi partire Il presupposto Se voi giocate bene Lander Priest Voi non avete problemi Contro nessuno Cioè Voi se giocate Lander Priest E state un po' tranquilli Belli Gagliardi E senza bene E senza paura Eh purtroppo Cioè purtroppo Devo Non prendere La board la frizziamo È corretto? A me piace La frizzata board Alla fine abbiamo Coppia Con un pezzo buono E Assicurazione col pirata Piuttosto che giocare Un 3-4 Che potrebbe essere Anche buono Capì? Quindi insomma Questo Poi ovviamente Il prete Potrebbe soffrire L'Ottikappa Di morante Però l'Ottikappa Di morante Ma pure Si ha potuto giocare Un minimo Altrimenti In case Queste Mamma mia Carretta Che forte Alla Che c'hai gioia Madonna Che sono contentissima Da giocare Con Mike Potete capire Beh Però venni Solamente Eroidop Tear Carmo Un po' Di frizzanteria Ma dai Tra i harder Che altro Non sei Insomma Due monete Le teniamo in mano Probabilmente Si Non è malissimo 5-4 Però Raga Abbiamo un zotto Io prendo Sì Io prendo Io prendo Cioè Abbiamo un zotto Capisci Noi siamo solidi In bordo Non dobbiamo Per forza Prendere Quel marlock Di merda Meglio avere Probabilmente Quello che sarà Un pezzo A tre Come le giochiamo Sti coin Raga Li ho presi Perché effettivamente È il prezzo Di quello Che è La mappa Di elisa Quindi credo Che siano Molto forti Gli altri Ma c'erano schifo I roll gratis Meglio i coin Secondo me E L'altro L'ho doggiato In maniera incredibile Pensavo che facesse Schifo Ah sì Più di più De un pezzo Anche quello Me lo sarei tenuto In mano Che non era malissimo Insomma Abbastanza Cioè Cioè sì Penso che la prendo Penso che la prendo Non c'è fondamentalmente Di meglio Questa è forte Qui voi lo vendete Murlock E comprate anche il 32 Io sei matti Ci sta O stasi Preferisco il 4 No Ci sta Oddio è close Tra più forte Forse No Beh il 32 Non so A suo punto Se frizzare stasi E frizzi stasi Ci può stare Stasi molto Tempo E il tunnel Molto solido Sì Guarda che bordo che c'hai Ma vabbè La finchiamo stasi Io la frizzerei È assoluta la frizz Sai anche la coppia Se sa mai Te la paura E la tripla Stai andando bene Ciao In realtà il film ci sta Vediamo un attimo Se sono veramente così forte Probabilmente posso anche optare a fare HP Sè il di Murlock Oh comunque parli di me Ero è sempre tryhard C'hai lì No vabbè Dai Ieri ho veramente testato di tutto Non puoi dire che io ho tryhardtato Non mi offendo Mi offendo Mi offendo tantissimo Ieri ho veramente tryhardt Ieri ho giocato cosa a casa Quello è vero Però sì Vorrei che sia fa un mocco dei punti C'è già gente a 8000 Visto? Eh no vabbè Certo Quelli sono i veri tryhardt Sono anche forti Cioè non basta essere tryhardt E poi deve essere pure forte Altrimenti saremmo tutti tryhardt E ne lo siamo Lo saremmo tutti 8000 E non lo siamo Io credo che qua si faccia sempre HP È anche vero che per fare 8000 Che la gente Uuuuh Uuuuh Questa è god God È fortissimo Non credo che finisiamo più stasi Quel 4-4 Sembra veramente tanto interessante Diventa un 6-6 In realtà non è che scali poi così bene Però Cazzo un 6-6 dovrebbe essere buono Perlomeno mi compensa il tirap Comunque è meglio degli altri due probabilmente Di Argus e qual è l'altro? Bolvar non mi ricordo News di schiacchi Madonna Non sai quanto ci sto pensando Ma non sai nemmeno A quanto sto pensando Anche ad altro Madonna che bored C'ha questo Madonna che bored Eh quello Scala abbastanza di centesima Borde gigante Dove cazzo mi presento? Ha triplato al 3 Mo' è tutto chiaro Questa è rimasta al 3 Ha triplato So se servisse i giochi così Ho delle reclute fresche fresche per te Secondo me troppo gridi di rapà Dammo non c'è oggi caro Dammo non c'è oggi caro Non c'è il trigger attivo che c'aveva comunque lui c'aveva Bolvar c'aveva Drago Un'altra mi sa che picca qua Devo aprire il trigger comunque Mi scordo sempre da aprire il trigger E' pare di essere tornato un anno fa quando il colondello me lo ricordava Eh si è aggiornato tra l'altro Non lo so Non lo so caro Provo anche io Vediamo Firestone C'è ma nel senso Finché non ci sono pezzi nuovi non lo puoi sapere Ok E' un 50 e 50 Male Male perché abbiamo dato un valore a questo esagerato La spacca C'è la cantina di prendono Ok Mamma mia Reno Quanti danni che ho preso Alla Chi però Se mi attaccavo a destra poi dobbendo un altro pezzo con la piratissa Ok 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 Da probate cal 3-1 P5-P5 a 5-2 pure potrebbe essere buono P5-2 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 P5-3 P5-3 P5-2 Isera mi dà Vabbè full drag Ti dà full drag isera? Ma tu sei sera? Ah no tu non sei sera bro No no mi dà 7 drag Comunque il track è sempre aggiornato Non mi fiderei tantissimo sai Sì e poi è chiaro che va testato nel tempo In base a tutti i match up Però Alla chi vuole un altro pezzo con Comunque tenermi terminato Comunico pirata quanto è figo Che mi serve? Mi serve un drago? Mi serve un mech? Mech non ci stanno Mi serve solo drago murloc Questo va via ovviamente Teniamo demone questo Teniamo pirata questo Tanto va per il secondo up Non penso Ma è un drago Vabbè Dai non puoi con nomi in campo Fare un turno intero senza nemmeno Dai che vergogna è sta roba Però questo è meglio Devo di riprendersi Così si chiama life Do di parla Siamo contro Non so se mi spacchi il culo o meno Eh io sono abbastanza grosso adesso Ho finito Cioè io c'ho tutto Ho si è tappato tutto Guarda ti dico solamente una cosa caro Ho venduto Calicos In fatti capire diciamo il livello Vabbè va Eh si ho il 71% Eh sono troppo grosso Sono troppo grosso Ho trovato light fang dalla nat E poi ho trovato la seconda light fang dallo shop Ho triplato Il triplato in realtà non è servito un bel adazio Sì comunque credo che il tracker si sia aggiornato Gioia Perché Oddio Come cazzo ho fatto così velocemente Eh bro Stavo trato pezzi giusti Ho trovato Poco da fare No 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 Dico come hanno fatto Aggiornare il tracker Ah ok ok Non lo so Non lo so Ha fatto un turno totalmente Con Con zara elementali Se mi frizzano lì GG Beh vado Sì 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 Sai se tu noi non favo un cazzo A meno che non trovo light fang O nat lui Ok Questa è menagerie non è malissimo Mi protegge anche lui tauntato Se attacca per primo Però non posso giocarla adesso Cioè voglio triple lightning Cioè la prendo giusto per la prendo Mi piace a me l'astratto Quando cerco solamente un pezzo No? E quindi è probabilisticamente difficile A me piace prendere le coppie No? Perché perlomeno Oltre a quel pezzo C'hai altri pezzi Per poterti potenziare Boh Sono stato fortunato Che ho trovato sia il 4-1 Che Nat Va bene Però tendenzialmente Ci sta tantissimo Perché Vabbè Ancora Ancora light fang regge Però poter vedere un po' Non regge più insomma Angelica triplata Quanto valore ti dava Il pezzo dopo Sì 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 Tantissimo Vabbè Però ho trovato i giusti pezzi Ho trovato Che poco da faccio Quando gioco così è facile Grazie Mi ha scammato No non mi ha scammato Ma non ho preso valore da Nat Ma no Ma come me l'hai tirata Mike Santo iddio Allora chi Vabbè Fa niente Tram bel lavoro Mantieni la pressione Esattamente ciò che stavi cercando Ma Niente light fang Avete mai visto No valga non equipato in mano Eccolo Ma sai che Ah no Forse No Non lo gioco mai Sono troppo grosso No Potresti cominciare a pensare Di vendere una light 23 punti vita No Me lo faccio L'altro giro Oddio Questo sta facendo in realtà Danni a destra A sinistra Non credo che mi faccia 23 danni Comunque Me lo faccio Un altro giro di light fang Non so nemmeno se Frizzare il 3-2 Eh ci può stare Perché poi puoi tirappare a 6 Vendi le due light fang Però che prima margadone Secondo me ci sta Sì no Il turno dopo Vendo light fang Minimo una No in realtà Devo venderle entrambe Devo venderle In realtà dipende tutto Da quanto sto messo C'è come sto messo Perché poi posso chiuder Comalgadone E listra E listra O secondo Magadone Grazie caro O secondo Magadone Sto sopra Bro sto sopra anche sto match up Vabbè Insomma 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 Beh magari mi match col morto E mi faccio un altro giro Con le light No siamo uno contro uno Draghi Ah mi sa che è il final match Quante pussi prende il blocco di ghiaccio? Ah ma io prenderei scudo di vino Dai scudo di vino a un pezzo Sempre Se non lo prende a margadone Ti lo dai a lui Minchia Ce la puoi trovare addirittura triplato Magadone Sì Non laghi Niente pinna tossica Vabbè c'è il secondo tentativo Sì All laghi bro Mazza che merda No baffa prima Buona quella Sei decente Peccato Quella magadone Fa un po' schifo Forse avrei attaccato L'aveva messo Ah no Cioè lì Zagaro Ho messo loro Per spaccare gli squiti vini Ed è corretto Giusto Giusto Buono questo Pareggio Pareggio Ma è molto semplice Io devo attaccare primo Potrei farlo Mettendo l'isra Vero Prova a vedere se tripli Quella magadone Magari Tanto al secondo Ma anche se prendo Pelino Posso tranquillamente Dar via qualcosa Potresti neanche pensare Di dar via quel drago 15-14 Oddio Ti fa 30 danni Quei 15-14 Forse è meglio Dar via qualcosa Magari trova qualcosa Al 6 sta rolando Bro Oh non hai trovato un pezzo di taverna 6 Rag Vuoi provare a scoprire la magadone Venendo nata E mai Chiudi di selfless Oppure della nuova No No Se vendo vendo 29-29 Eh Esatto E che cazzo Figlio Io lo metto veramente lui Sì ho idea che la puoi scammare In entrambi i casi Con selfless Forse se la metti Io forse è meglio Selfless Selfless La puoi mettere Se attacchi per prima Puoi mettere per seconda Ma si Prod'attacco per prima Non me ne fai a cazzo Dove va La 73 muore Sempre no Se metti Sempre seconda Dal scudo di vino All'atto E 25-46 E invece No Aspetta Però forse è più forte L'altra Perché ti tanca 4 attacchi Ma ti spacca 4 scudi di vini No 3 No ma dipende se attacco prima Se attacco prima La partita è finita Se non attacco prima La selfless Da chi da scudito Scudito No ma di amare Donde secondo No perché se gli scudi di vini Va a scattarsi contro Eh Si attaccavo Ecco Era Era giusto Per refresh Guarda che giusto Perché lui c'è un taunt solo Quindi non arriva sempre Era solamente per refresh Lo scudi di vino Al migliore Vabbè ma tanto Penso di vitro C'è lei era buona Ma non contro Draghi no Cioè se mettevo lei Peristavo a guardare L'elementale Ci stava Problema che se La 7 Se mettevo attacca la 7 7 more lo stesso Quindi comunque Guarda un cambio Un cazzo Se lei Si non è detto Che di spaccarsi I scudi di vini Perché poteva essere benissimo Che tu attaccando Spaccavi Ma il primo E lei poi Sempre per forza Attaccare il primo Esatto Quindi si attaccava il primo Un cambio al cazzo Dove attacca la russa Luce aveva due taunt Quindi tu attaccando Spaccare gli scudi di vini Dei taunt E invece i suoi scudi di vini Si andavano a schiantare Tutte le volte contro la tua 7 a 7 Non è vero Perché la 7 a 7 Si attiva solamente Quando la gestione Attacca uno scudo divino Lo scudo divino Attaccando due volte E more E quindi poi Non cambia la 7 a 7 Non fa più niente Ah è vero Perché si attiva solo Quando lo attaccano Ah è vero Non so se tu Non conosci oppure no Ma gli spacca i culi Con il buratello bro C'ha le carte Fanno parte Di un giochino In cui non crea delirio E arte Ehi Giocari sono altri Nix